Accademia Carrara in Hello Sky è un progetto di collaborazione tra Accademia Carrara e Sacbo Aeroporto di Milano-Bergamo che vede le opere del museo entrare all'interno dell'aeroporto, in particolare nella Hello Sky Lounge. Sono progetti di piccole mostre che naturalmente sono legati alle attività del museo e che presentano alcune delle opere solitamente non esposte e quindi invisibili. Vette di luce spin-off si lega a una mostra di Accademia Carrara che ha per tema il paesaggio montano, in particolare il paesaggio delle Orobie, visto da due differenti prospettive dall'occhio di un fotografo contemporaneo, il giapponese Naoki Ishikawa, e attraverso le opere appunto del museo.